È un'emozione, l'arte è un'emozione, un messaggio che una persona trasmette ad un'altra persona. Noi dobbiamo porsi davanti a queste opere in un atteggiamento di attesa e di ascolto e dobbiamo guardarli. In fondo sono delle immagini, è come se noi avessimo un quadro, una pittura, questa foto elaborata dalla mente. E' come sognare, quando noi sogniamo guardiamo la realtà e questa realtà è una realtà immaginata. Questa mostra si chiama realtà immaginata ed è stata elaborata e anche offerta alla città di Arezzo da Eugenio Piccioni. Una foto sì, ma che dia la sensazione di essere un quadro, una pittura. Questo l'intento di Eugenio Piccioni, socio del fotoclub La Chimera, con la sua mostra realtà immaginata. Sì, questa infatti era quello che volevo trasmettere con la fotografia, la volevo rendere simile alla pittura. Da un momento che la pittura purtroppo non sono capace e quindi ho cercato in qualche modo di farla con la fotografia. Spero di esserci riuscito. La mostra rimarrà aperta presso la sede del fotoclub La Chimera sotto le loggie Vasari in Piazza Grande fino al 14 di aprile.